oh no manda eh mi piace ma manda perchè per far farlo ma non ci sono ma non ci sono ma ti rendici la tua volta ciao a tutti eh ciao hai mela 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 ii hai mela hai mela un po' Grazie a tutti. 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 Grazie 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 E' un balù facile, però è un balù difficile. E' un balù facile, però è un balù facile. E' un balù facile, però è un balù facile. Gira, gira! Dai, dai! Ora ci è, ora ci è! Vai ragazzi! Dai, dai! Arbitro! Dai, dai! Arbitro! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Sì, che buona! Dai da subito, ci ha faccia! Ci ha faccia, non in mezzo, ci ha faccia! Sì, non in mezzo, ci ha faccia, non in mezzo, ci ha faccia! Sì, non in mezzo, ci sta faccia! C'è un piatto! Alla l'aiuto! Alla l'aiuto! Alla l'aiuto! Adesso si è accanto! e che che ma racconta dai dai attaccala attaccala veniva subito alla fine che andiamo a andare a fare qualcosa di caldo allora sali sali dai mettiamo l'inversale lotto dai dai soffri dai che ci siamo dai 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 ma non è fuori gioco questo fatti fuori gioco qui la roba è più lunga sulla fascia sulla fascia sulla fascia vai attraverso Sì, sì, sì Ma perché non la giochi GIF? Ehi, c'è la punta! Vai! Ehi! Ehi! Ehi, svegliati! Senta qua! Un amicino! Punta là! Il partito! Cosa ti fa colore? No, no, no! Vada! Sto cuore! Vada! Ehi, l'amica! Vieni a scendere sul centro. Dai, dai, dai. Occhio. No, Sara. Via, 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 via. L'erba che buona, lei che buona! L'aveva persa, ormai l'aveva persa! L'aveva persa, ormai l'aveva persa! Mettila giù! L'aveva persa! L'aveva persa! L'acqua! 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 Vai lungo! L'acqua! 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 Grazie a tutti i raggiati qua quando stai giù. A me la c'è un cacca. Sospira giù. Non ci aspettiamo adesso. Bravo, raga, bravo. Bravo, sì. Mi ha portato proprio quando lei stava rientrando quando cacciato i raggiati qua. Sì, sì, per forza. Si vede almeno qualcosa. Sì, è freddo. Sì, è freddo. Grazie a tutti. 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 Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.